il nulla cosmico perlomeno nel risultato poi all'interno della partita ovviamente qualcosa è accaduta sono qui per commentarla ma ve dico la verità e ve lo dico in totale onestà meroder culo ho fatto la scelta più sbagliata ragazzi vedermi questa partita e per almeno tre o quattro buoni motivi ho sbagliato adesso ci arriviamo con calma vi saluto immediatamente bentornati e ben ritrovati non credo ragazzi si manca qualche minuto di recupero ma vedendo tutto quello che abbiamo visto o non visto in questa partita ed è pur sempre in derby non credo che la juventus o il torino riusciranno a segnare finirà sul punteggio di 0 a 0 e sicuramente è un punto ragazzi che non serve a nessuna delle due compagini ribadisco adesso aggiungo tutto quello che devo aggiungere lasciate mi piace su questo video per continuare a supportare questo genere di contenuti se domani in merito volete il parere del buon fabio su tutte le partite di oggi su tutte le partite di domani iscrivetevi e attivate la campanella resterete sempre aggiornati quando pubblico qualcosa non vi perderete più nulla lo chiedo soprattutto a quelli che mi seguono sempre siete in tantissimi ragazzi che mi seguite ma che ancora non vi siete iscritti se mi volete fare un regalo non dovete caccia soldi semplicemente iscrivervi e attivare la campanella è il gesto più bello che potete farmi grazie a chi l'ha già fatto e a chi lo farà due canali di calcio un extra calcio in descrizione o come sempre compariranno qui durante il video perché mi sono pentito di vedere questa partita perché oggi con 27 gradi avevo la possibilità di andare a farmi una passeggiata con mia figlia io non so un tipo che lavora sei giorni su sette e poi c'è il giorno libero perché io lavoro da lunedì alla domenica anzi il sabato e la domenica io alzo la sticella e sono no costretto tra virgolette poi nessuno me lo me lo impone ovviamente a portare i contenuti perché la settimana calcistica entra nel vivo ragazzi c'è c'è la serie a tra me e me ho pensato vabbè oggi c'è stato rino juventus però cazzo è pur sempre il il derby non posso non portare un contenuto del genere sarebbe irrispettoso nei confronti di tutte le persone che mi seguono che ti fanno torino juventus e quindi alla fine mi sono convinto vaffanculo tornassi indietro ragazzi miei non porterei questo contenuto e poi ne avrei parlato non lo so quando sarei tornato con tutta calma stasera sul tardio magari poi domani mattina avrei fatto uscire in a saperlo ragazzi miei guardando il risultato ribadisco non lo avrei mai portato e vabbè sono cazzate che se che se che se commettono altra giornata che me potevo godere con mia figlia e con mia moglie completamente persa vabbè chiusa questa questa piccola parentesi veniamo ai fatti perché ho detto è un punto che non serve a nessuna delle due perché la juventus era chiamata a dare continuità no a non era impossibile la juventus guardando il primo tempo secondo me sbloccarla e portassela a casa sta partita ma poi guardando il secondo tempo del torino non era impossibile manco per il torino secondo me approfittare del secondo tempo in calo dei bianconeri e provare a portarsi a casa questa partita tutte e due le squadre il torino ha perso con l'empoli era chiamata no a ribaltare un po la figuraccia tra virgolette che hanno fatto contro contro l'empoli la juventus ribadisco doveva dare continuità e uscita fuori di poco ma non non segna lo so sicuro al cento per cento erano chiamati appunto no a a mette pressione un po al bologna che poi stasera gioca gioca contro il monza sarebbe stata una possibilità importante per quello dico per me appunto ragazzi che non me sa né di me né di te né per l'una né per l'altra scelte che sono state fatte all'inizio vabbè torino defezioni difensive ormai lo sappiamo tutti quanti e mancano sicuramente giocatori importanti yuric ha schierato i migliori giocatori possibili e col senno di poi ragazzi io vi dico che probabilmente avrei buttato nella mischia dall'inizio il di seiling junior continuo a pensare e me lo fa pensare anche l'occasione che ci ha avuto no poco poco fa che forse il di meriti un po più di spazio per quanto poi entrata al 65esimo quindi una ventina di minuti se le se le è fatti ma avrei fatto a parte invertita avrei fatto cominciare tanto sarebbe cambiato un cazzo comunque non lo sapremo mai perché coi secco i man se va se va da nessuna parte le scelte ovviamente le fa le fa massimiliano alle che io sta juventus ragazzi ne capisco proprio vi dico la verità perché poi ribadisco ripenso al primo tempo e ragazzi per me la juventus ha fatto molto meglio rispetto al torino tre occasioni importanti quella quella collocatelli ok le clamorosissime sicuramente sono quelle di dusan blauic quel palo clamoroso ho sentito qualcuno su instagram direct poi anche leggendo scorrendo no la mia home di instagram mi capitavano post su su sta partita no dice sei maniato un gol clamoroso sì è vero perché chiesa gli mette una palla perfetta però ragazzi non è che un attaccante prende sempre perfettamente la mira con la palla in movimento con tu che te devi posizionare so cose che possono succedere in realtà non è una cosa così è semplice parlare ve lo dico perché io quando giocavo a pallone ho fatto l'attaccante ho fatto di tutto io quando quando giocavo a pallone però può sembra poteva far meglio sì sicuramente sì fatto sta che sta cazzo di palla non è non è entrata stessa cosa poi poco dopo sarà stato il minuto 30 pressa poco con milinkovic savic che praticamente ragazzi sembrava di stare su un videogioco aveva già anticipato la parata già si era messo di lato già gli aveva tolto tolto la palla però sono occasioni importanti il torino ragazzi non aveva fatto praticamente nulla nel primo tempo la juventus stava prendendo il sopravvento dal punto di vista soprattutto delle occasioni e io ho pensato non sono passato in vantaggio non si chiuderanno dietro no non lasceranno uscire il torino e puntualmente ragazzi vengo smentito perché perché il torino comincia a uscire fuori comincia a fare sicuramente di più molto di più rispetto alla juventus del primo tempo se sono spartita in tempo per parte detto in poche parole primo tempo a marca bianco nera occasioni importanti secondo tempo torino occasioni importanti e non me l'aspettavo non me l'aspettavo allora mi viene da pensare tra me e me dico cazzo ma è possibile che ogni volta la juventus nel secondo tempo fa così se passa in vantaggio se chiude se passa in vantaggio comunque subisce gli avversari tra me e me ho pensato ma non è che la juve ogni volta allora riesce a stare in quella forma in quell'intensità solo per un tempo poi nel secondo tempo sono costretti perché non gliela fanno quei forze ma ragazzi ho lanciato una provocazione clamorosa però io mi vedo tutte le partite da juventus non è possibile che ogni volta nei secondi tempi calino così di intensità allora non è poi così voluto non so se mi sono spiegato ditemi voi che cosa ne pensate ovviamente qua sotto nei commenti torino che avrebbe juve che avrebbe meritato vantaggio il primo tempo ma torino che avrebbe meritato ragazzi disegnando il secondo tempo perché poi la parata che fa scesni secondo me è depreggevole fattura è veramente molto molto importante il cross di bellanova è perfetto bellanova ragazzi io continuo a pensare che l'inter abbia fatto una cazza per quanto poi stanno messi bene con darmi anni e via dicendo ma gli sarebbe tornato comodissimo bellanova importantissimo sto cross perfetto colpo è stessa sanabria là ragazzi ci vogliono i riflessi ci vuole la è finita vaffanculo a me che rimango il pomeriggio avete in me ste cazzo le partite in derby porca puttana 0 a 0 ma io non lo so guarda le bestemmie giornata bella buttata al vento mo domani cinque partite quindi do cazzo vado quindi la parata dei scesni ragazzi poi sì ok su ildis lo dicevo all'inizio questo contenuto se non mi ricordo male no anche su ildis sicuramente c'ha avuto la sua occasione la sua situazione e poi basta ragazzi finisce l'asi il torino che c'ha avuto un'altra occasione con non mi ricordo con chi comunque al 94esimo praticamente e basta la partita finisce così un punto per uno che serve a nessuna delle due spettacolo 0 rottura dei coglioni a manetta il nulla cosmico dal punto di vista del risultato se stasera il bologna vince praticamente recupera quello che la juventus gli aveva recuperato nella partita precedente perché aveva fatto una cioè vinci c'è la fiorentina c'è la possibilità di da continuità e in una partita abbordabile ragazzi fallisce nuovamente se il bologna stasera vince praticamente un'altra volta se riporta a meno 2 dal terzo posto in classifica con noi che poi dobbiamo giocare con l'utinese e chi vivrà vedrà comunque questo è quanto la vostra qua sotto nei commenti grazie per la visione se beccamo alla prossima con un nuovo video